Le sperimentazioni scientifiche, mediche o psicologiche sulle persone o sui gruppi umani possono concorrere alla guarigione dei malati e al progresso della salute pubblica. La scienza e la tecnica devono essere poste al servizio dell'uomo per promuovere il suo sviluppo e migliorare l'abitat in cui vive. Ciò presuppone il rispetto dei valori morali. Chi accetta di essere posto a sperimentazione, a scopo curativo, non può prestarsi ad esperimenti in cui il risultato sia certamente o probabilmente mortale. Le mutilazioni del proprio corpo sono proibite perché nessuno è padrone del proprio corpo a meno che non siano richieste per la salvezza dell'intero organismo. Naturalmente si possono donare i propri organi dai vivi, gli occhi, il reno, se il donatore non corre alcun rischio né per la propria vita né per la sua famiglia. dobbiamo lavorare sempre a difesa del corpo. Difesa è il rispetto dell'integrità del corpo. E qui abbiamo una serie di manifestazioni negative nella società che non ti pentono magari dalla scelta della persona, ma sono proprio frutto di un'impostazione sociale. Il terrorismo con armi si usa violenza creando vittime innocenti. La tortura usando la violenza fisica per strappare segreti e avere documenti di nascosto. La pena di morte oggi, nonostante il grande progresso, vi sono pareri contrastanti. Noi ci limitiamo a dire che non è lo Stato a dare la vita e quindi non può essere lo Stato a toglierla. La Chiesa ha grande attenzione per gli ammalati ed esorta i parenti a preoccuparsi quanto il loro caro si nota che si avvia verso l'altra vita di avvisare i sacerdote per fargli amministrare gli ordini sacri, l'insagramento dell'unzione degli infermi. Padre Pio costruisce un ospedale di lusso e riceve anche tante critiche per il lusso per quel tempo di questo grande ospedale. E dice, ma se fosse stato possibile per me, avrei costruito un ospedale di oro. Perché come Gesù è coaxistia, sta nella pistita di oro, così Gesù malato dovrebbe stare in un ospedale di oro. Questo è il concetto della vera medicina a favore del malato, del sofferente. È Gesù malato che aspetta le cure dei fratelli viventi. Grazie a tutti.